La vita che batte la pandemia è un simbolo di forza e di speranza, soprattutto in questi mesi, nei quali abbiamo sentito parlare di numeri, decessi, contagi e guariti. Ma un neonato venuto al mondo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria mondiale rappresenta non solo un evento straordinario, ma anche la storia di chi ce l'ha fatta e di chi finalmente può accogliere tra le braccia una piccola creatura. Tanti però sono stati i dubbi e le preoccupazioni delle neomamme nel lungo percorso preparto, dai controlli programmati alle ecografie alla presenza o meno del compagno oppure di un familiare in sala parto. Infatti i protocolli regionali e nazionali non prevedevano quest'ultima possibilità. Così nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Croce di Fano è stato istituito un percorso protetto in accordo con la direzione medica di presidio e la direzione generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Abbiamo voluto dare la possibilità alle mamme di far partecipare un stretto familiare, in questo caso il marito, facendo questo percorso anche al marito, per cui alla 39esima settimana noi sottoponiamo a tampone nasofaringeo il marito. Se il marito è negativo, chiaramente fino al momento del reparto gli si danno le stesse consigli di non frequentare praticamente luoghi affollati o potenzialmente infetti, in modo tale che nel momento in cui la donna viene a partorire può entrare anche il marito durante il travaglio di parto, seguirla tutto fino al momento del parto e venire anche nei giorni successivi alle visite negli orari prestabiliti. Invece nel caso in cui la mamma dovesse risultare positiva sarà necessario seguire il protocollo Covid, il quale prevede il parto nel punto nascita di Pesaro diventato luogo di riferimento per le donne in stato interessante contagiate dal virus. Inoltre il tampone previsto per il percorso protetto al Santa Croce è gratuito perché è a carico del Sistema Sanitario Nazionale, infatti la direzione ha deciso di non far ricadere questa spesa sulle famiglie. Quanti sono i parti che registrate mensilmente e quali sono i vantaggi del punto di nascita unico? Da quando abbiamo un punto nascita unico ci aggiriamo intorno ai 95-110 parti al mese, circa, il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno 120-130 parti al mese perché da quando siamo punto unico, nascita tra Fano e Pesaro, dipendentemente da dove questo sia, praticamente noi abbiamo messo insieme due organi, due formazioni, due piante organiche che mentre prima lavoravano in reperibilità, oggi noi H24 siamo presenti senza praticamente l'ausilio dei reperibili. Questo, spiega il primario, significa che il personale è in grado H24 di rispondere alle emergenze e urgenze del reparto di ostetricia. Grazie alla presenza di due medici, quattro ostetriche e un anestesista, la sala operatoria può essere attivata nel giro di pochi minuti. In alcuni casi, sottolinea Cicoli, l'intervento immediato significa evitare handicap permanenti nei bambini che devono venire alla luce. Anche nei prossimi mesi si manterrà il punto nascita unico? Finché rimane l'emergenza Covid, io penso che le direttive regionali e quelle che sono le direttive della direzione stessa, siano quelle di rimanere in questa situazione. Abbiamo visto anche dagli ultimi dati che il virus ancora è presente, che c'è praticamente una ripresa nel numero dei contagi. Questo non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo sempre tenere presenti quelle che sono le prevenzioni, quindi io mi raccomando sempre disinfezione delle mani, portare la mascherina, non frequentare luoghi affollati. Come nel caso dell'ostetricia è un cammino dove alla fine, come obiettivo, è la nascita di un bimbo in sicurezza, dove una famiglia praticamente deve accogliere nel benessere, nel pieno benessere e nel pieno della salute praticamente questo bimbo che rappresenta un'aspettativa di vita per la famiglia e per tutti i familiari che vi stanno intorno.